Tour Operator internazionali sul Lago Maggiore per tornare a parlare di turismo e soprattutto turismo verso e dai paesi esteri. Sì, finalmente oggi ripartiamo, ripartiamo ufficialmente questo educational tour che noi abbiamo ribattezzato Family Trip perché stiamo facendo una sorta di esperimento con dei tour operator stranieri invitandoli di persona qui per cercare di familiarizzare al massimo con i nostri territori. Come sapete dopo la pandemia il mercato ha fatto fatica a riprendere e quindi ci sono dei tempi tecnici e ci sono delle situazioni che insomma devono essere ancora metabolizzate. Non ultimo l'aspetto legato ai green pass e a tutti i permessi di natura sanitaria. Quindi i tour operator invitati dal distretto turistico su nostra organizzazione stanno visitando tutto il territorio dei laghi e delle montagne, delle valli ossolane. E la cosa è assolutamente interessante perché finalmente dopo 18 mesi, quasi due anni oserei dire, finalmente ricominciamo. Il gruppo che è in questi giorni tra i laghi e le montagne del VCO rappresenta un po' tutto il mondo, dall'America all'Europa. Assolutamente, oggi abbiamo 10 tour operator tra cui due americani, alcuni olandesi, tedeschi e francesi. Questo è importantissimo perché è uno dei nostri punti di riferimento principali, il mercato straniero. Pertanto sappiamo che riuscire a comunicare e a far vedere ai tour operator stranieri che qui noi siamo ripartiti, che le strutture ci sono, che l'organizzazione funziona è fondamentale. Quindi il Family Trip è lo strumento sicuramente migliore per poter dare una sensazione vera e reale di ciò che offrono i nostri territori. La prima reazione sembra positiva, il primo impatto di questi tour operator? Direi di sì, li abbiamo trovati felici, contenti, entusiasti e soprattutto siamo stati fortunati perché il tempo è dalla nostra parte.